E' bella a tutti ragazzi, qui è Bioscara che vi parla Oggi come potete vedere c'è Mano, Filippo No, Filippo oggi non c'è, c'è Mano ragazzi Allora, potete vedere anche che siamo su FIFA Abbiamo le magliette della Juve e del San Paolo Ragazzi, siamo arrivati a 50 iscritti Complimenti Un applauso E ragazzi, come speciale, come avete potuto leggere dal titolo Ragazzi, abbiamo Queste Le Abba Nero Pepper Chips In pratica, Mano, devi sapere che le ho già assaggiate E' come sparare un pompino al diavolo Preferisco a non mangiare E ogni gol che ci dobbiamo Abbiamo un palo di patatine da mandare giù Ok ragazzi, molto molto semplice Io pensavo fosse un po' più difficile Ma molto molto semplice scegliere le squadre Abbiamo preso un Real Barcellona 2, 1 Inizia l'inferno Vado subito a farti i gol Da vincano a fare gol Vincano, mi trovo malissimo a giocare di qua Fallo Fallo Oh mio Dio, ti faccio il gioco Ti faccio il gioco No, ti dici no Ronaldo Ronaldo No Disponiziale, no Uno 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 Piglia di cipolle Ancora una No, così Dai, due Vabbè Venezia è buona Vabbè Vabbè, va Tre Due Uno Via Guarda che parte Ronaldo Posso sempre contare su di lui No No Smentito subito Attenzione ai triangoli Messi 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 Ma che No Tira Luis Swag Swag Goal Che gol Dove il portiere viene? No Ragazzi, soffro Due patatine Io soffro Guarda il gol Vabbè te la metto No Yes No No Che buone Guarda Si, si gioca Guarda Guarda Oh Le la Me la Non Sì 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 Oh Oh Chi perde alla fine si mangia tre quattro patatine Vabbè Oh Oh Sei Grazie Mi butto di qua Oh Oh No No Ho detto che mi buttavo di lì Sì Posso poter dire sto moreto ragazzi Oh Bastardo Ragazzi Sono la salivazione di una mucca Salivazione Sì La salivazione Che c'è la saliva che va Sono la salivazione di una mucca Guarda Ronaldo ancora là Sì 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 Mi si stacca il caricatore No Giusto così Giusto così Giusto così No Ronaldo usa Garnier E E Hernandez Usa Pantenne Pubblicità Conosso 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 RICOMO 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 Mi fai questo piacere di male Il rigore Su Ma lo parlo da chi chi usa Ha 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 ragazzi lo faccio attirare a Bane anzi a Rodriguez Mario guarda guardate se no sei in un carico si mangiati il patatelino mangiati il patatelino non ci credo no ma pure anche io eh guarda questo è arrivato no ma non cazzo non cazzo oh 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 Oddio! Di testo! Ma che cazzo non hai fatto? Uno dopo l'altro ragazzi! Uno dopo l'altro! Mi sta gocciando il nome! Inizio a gocciare? Oh come dè questo brugio! E come faccio con te? No allora, decidiamo il momento in cui vediamo tutto il brugio! Faccio gocciare! E' un po' di giro! E' un po' di giro! Devi aspettare ancora un po' prima di vedere! Noti, la nostra animazione! Ora masticala bene e mangiala più bene! No! Poi non va bene! E' un po' di giro! Mastica bene tutto! Intanto è giusto! Mastica bene e quella mandi giù piano, piano, piano che ti deve bruciare in tutta la bocca! 3, 2! Vai! No, 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 no! Guardalo! Fabrici! Neymar! Sì! Sì! Neymar! Il 45esimo è buggato! L'ho sempre detto! Ma è così! Neymar! Vedi che è stato già finito, guarda che ho mangiato! Forza! Ma porca p*****a! Ragazzi! Praticazione un po' di giro! La salute! Sì! 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 Come sono buone! Vole le pareti più buone che ti ho mai mangiato! Sono buone! Però solo che le ho mando giù! Mmm! Si ricomincia! Oh! Fino alla fine! Oh! Oh! l'avete mandato su una cosa di... di pepe si si Prucia, mi brucia la guà mi brucia la guà dai giochi si ma tu devi giocare, devi andare avanti che fortunato Prucia che cazzo mi ne frega di Advanced Warfare poi ora vedo adesso è il bordo Cocco che cazzo mangia bastarda Proia Zoccola mi stava passando adesso quando ti dico un po' di cosa sanno non ce l'ho visto non ce l'ho visto non ce l'ho visto il cozzone è montato qua dentro prendi la paprika e tirate la seconda ma stai qua oh 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 ma che stai dicendo no no resta ma che stai dicendo gioca gioca ma che stai dicendo ma che stai dicendo oh 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 Neymar che gai che gai che gai mangia altri mettetele nel dentro basta Manu basta uno e l'altro un e l'altro due cos'era oh si spammatela bene la l'essenza mi stai spuntando dappertutto il vento che mi arriva addosso guarda messi di testa guarda con marcelo mangi da patate mangi da patate mangi merda no no ti devi ricarare le dita porco metto anche il joystick vero che adesso è insopportabile quasi la forza di andare avanti aumenta sempre di più eh? ma oh no si 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 canta eh adesso come dura vero che piano piano mi parla sempre più forte non ti brucia la bocca ahahah ma che faccio? inizia ad essere anche tu un po' stordito da piccante adesso impara eccolo qui il rosso pure direttamente il colage bello si yeager master yeager master mi sta colando la ciambella la ciambella da coso? dal naso a uuuu yes uuuu 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 fanno mattesimo lì non è mattesimo fuori gioco nooo si vai così vai così di testa pure vai 3 me ne mangio vaffan guarda tutte quelle eh si eh si e finisce vai così tutto il pacchetto io tanto mi godo l'acqua uuuu o 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 sì dai una te la volto dai buongiorno buongiorno ma ragazzi ti faccio vedere quante pastine devo mangiare più la polvere tutto ma adesso me la mangio ehi niente spreco qua tre dai 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 duro brucia buongiorno 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 statistiche molto equilibrate non so come descrivere questa sensazione guarda buongiorno non so come descrivere no quindi ragazzi se questo speciale vi è piaciuto lasciato un mi piace qua sotto un commento un consiglio ditemi siamo letto un'altra sfida come questa se lo siete ancora iscritti iscrivetevi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti a 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